Siamo puntualissimi, siamo intorno a 23-24 persone, 26 sta scritto, però alcuni di noi hanno il doppio di pione. Che dite? Aspettiamo altri due o tre minuti? Aspettiamo altri due o tre minuti, chiedo la cortesia a tutti, che stanno parlando, di spegnere il microfono. Magari ricordo a tutti di spegnere i microfoni, tutti coloro ovviamente che non devono parlare in questo momento, Poi chiamano i propri migliori e le esigenze. Ricordo anche a tutti i rappresentanti dei laboratori già presenti che possono, se lo ritengono, prenotarsi per un intervento. Come spiegavamo nella ultima mail, chi vuole intervenire? Si può anche soltanto ascoltare ovviamente, ma chi vuole intervenire per proporre qualcosa a livello metodologico? Ecco Elena, che saluto. Ciao Elena. Ciao Andrea, ciao. Chi vuole... Ciao, la mia non riapposce da Skype. Sì, di lei. Come hai detto, non ho capito Skype. Ok, stavo dicendo appunto, chi vuole prenotarsi dei rappresentanti dei laboratori può farlo su quel foglio di prenotazione che abbiamo visto. Ecco, io adesso sto vedendo che Mauro Spotorno si sta prenotando in questo momento. subito dopo Besana, Marengo, Spotorno e quindi potete prenotarvi. Lo potete fare da qui in avanti fino al termine della riunione, ovviamente. Invece i singoli ricercatori, ecco Cristiano Pesaresi che saluto, del coordinamento di LabGionet e del laboratorio geocartografico di Roma 1, La Sapienza, ex Istituto di Geografia di Lettere, che adesso non si chiama più così, ma io per nostalgia continuo a chiamarlo così. I singoli ricercatori invece che vogliono dire qualcosa lo fanno prima di tutto in chat e poi se c'è tempo, ovviamente, se alle cose che pongono non si può rispondere via chat, insomma, gli daremo loro la parola. Nel frattempo, ecco, adesso siamo diventati 40, quindi io direi che dal momento che è prevista la presenza di 26 laboratori e 22 singoli ricercatori, io credo che ormai siamo molto vicini al numero atteso, anche perché molti ci avevano scritto tra ieri e oggi dicendo che non potevano seguire in diretta e noi, come sapete, abbiamo disposto anche la registrazione, quindi qualcuno che aveva altri impegni in contemporanea potrà seguire quanto diremo via, con il link che forniremo della presentazione, di questo webinar. Ok, allora io intanto mi, a questo punto, mi preparo con il mio PowerPoint, perché tra qualche secondo possiamo, credo, cominciare. Aspetto proprio altri due minuti. A quanto siamo arrivati, io adesso ho messo il mio PowerPoint e quindi non riesco più a seguire dallo schermo. Ah no, lo posso seguire da quest'altra parte, dal secondo schermo. Siamo a 48 e quindi, scusatemi se io ogni tanto mi giro da una parte e dall'altra, ma ho due computer accesi e quindi mi vedrete un po' muovermi in maniera irrazionale, ma tanto irrazionale non è. Allora, siamo già a 48, 50 in questo momento e quindi io comincerei, se siete d'accordo. Allora, vabbè, come sapete io sono Andrea Riggio e sto avviando questa prima riunione del progetto Atlante Covid-19, territorio e contagio in Italia. Oggi ci proponiamo diversi obiettivi, come prima di tutto quello di discutere la metodologia di questo progetto Atlante, ci sarà dopo di me un intervento introduttivo di Emanuela Casti, discutere poi il cronoprogramma e domani, a valle di questa discussione, ognuno di noi dovremo confermare la nostra volontà appunto e disponibilità a partecipare a questo progetto nella sua fase operativa. Come sapete avete ricevuto un link che vi fa accedere a un form, a un modulo, in cui vi verranno fatte tutta una serie di domande e tra le quali, oltre appunto alla richiesta, se confermate o no, di partecipare, poi tutta una serie di richieste di informazioni relativo a quello che state facendo, quello che vorrete fare, qual è la regione che vorrete studiare, che tipo di metodi state già utilizzando se avete già iniziato a lavorare su questioni come queste. Ci sono dei laboratori che già stanno lavorando da tempo, prima ancora che insomma iniziasse questa proposta dell'Atlante Covid-19 per la casa editrice AGEI, ci sono altri laboratori che invece non hanno ancora iniziato ma hanno dato lo stesso la disponibilità a partecipare e poi ci sono dei singoli ricercatori che stavano lavorando per conto suo, che non fanno per conto loro, che non fanno riferimento a un laboratorio in particolare, anche loro ovviamente sono stati inseriti nella mailing list. Allora, la prima cosa che io vorrei dire è che mentre sta iniziando la fase 2, quindi vedete lì in rosso tutto quello che si presenterà in queste prossime settimane all'attenzione di chi deve gestire la situazione, noi vogliamo sostanzialmente costruire nella prima fase di questo progetto un Atlante Covid-19 che racconti, che rappresenti e che interpreti quello che è successo nella fase 1 e cioè nelle ultime tre settimane, specialmente a partire insomma dal primo febbraio e poi in cui appunto è iniziato l'epidemia arrivata in Italia e è iniziato il lockdown e quindi il distanziamento personale della gente, l'impossibilità di andare a lavorare nelle modalità che avevamo sempre seguito. Quindi un primo aspetto importante è che noi ci occuperemo nella prima parte del progetto di quello che è accaduto nella fase 1, quindi ricostruiremo il contesto nazionale, i contesti regionali e poi introdurremo già un ragionamento sulla reticolarità di questa pandemia perché il problema è molto complesso. Ma ripeto, della metodologia del cronopogramma poi riferirà Emanuela e quindi rinvio a dopo. Adesso avete tutti quanti ricevuto una bozza di discussione in una mail precedente di 4-5 giorni fa, se non l'avete vista anche quello può essere un documento utile per seguire quanto diremo oggi nel dettaglio. Io invece adesso vorrei semplicemente fare un ragionamento sugli obiettivi dell'Atlante Covid-19 dal punto di vista dell'Agei. Allora, la prima cosa che devo dire è che, perché molti di voi me l'hanno chiesto, alcuni di voi me l'hanno chiesto, noi non stiamo creando un GDL-Agei. Noi stiamo formando un gruppo di collaboratori che lavoreranno alla stesura di questo Atlante Covid-19. Quindi non si tratta di un nuovo gruppo di lavoro Agei. Perché non si tratta di un nuovo gruppo di lavoro Agei? Perché la proposta nasce da un'idea di Emanuela Casti, che essendo a conoscenza del fatto che abbiamo creato una casa editrice Agei, mi chiese qualche tempo fa, prima ancora del webinar che abbiamo ottenuto la notte del 3 aprile, di poter pubblicare il lavoro che stavano già facendo a Bergamo, l'Università di Bergamo, sull'epidemia in corso, di pubblicare un Atlante. Io ho subito pensato che fosse una proposta molto interessante, ne ho parlato con tutti i consiglieri del comitato direttivo, ne ho parlato con il direttore della casa editrice Agei, che è Franco Paginelli, e tutti quanti mi hanno ovviamente incoraggiato ad andare avanti. Una cosa che io ho proposto a Emanuela, che ha subito accettato entusiasticamente, era il coinvolgimento della rete Labgeonet, e cioè la rete dei laboratori geografici universitari. Ma vado con ordine. Allora, il primo obiettivo che l'Agei si propone di raggiungere è quello di tornare a pubblicare un Atlante. Gli Atlanti sono sempre stati un elemento della nostra identità. Quindi un ritorno a un prodotto di questo tipo per me ha tanti significati. Prima di tutto, l'Atlante è uno strumento tipico, che ha fatto conoscere la geografia all'esterno, non solo ai cultori della geografia, ma a generazioni intere, insomma, di studenti, di persone che si sono accostati appunto al mondo della geografia. E' inutile fare riferimento a un passato troppo remoto, al primo Atlante di Orterio del 1570. Prima si chiamavano Teatrum, poi Speculum, e poi arriva Mercatore verso il 1585, insomma, ma l'aveva già discusso con Orterio e pubblica il primo. La prima raccolta sistematica di carte costruite utilizzando lo stesso linguaggio cartografico e per analizzare un determinato tema con il termine Atlante. Ecco, negli ultimi tempi si è continuato a lavorare sugli Atlanti. Negli ultimi, io qui vi porto alcuni esempi di Atlante che sono stati fatti in Italia. Questi, per esempio, sono due Atlanti tematici. Uno è l'Atlante tematico dell'agricoltura italiana, pubblicato dalla Società Geografica e pubblicato nel 2000. L'Atlante tematico delle acque d'Italia. Sono due Atlanti che sono a cura, sono stati realizzati da gruppi numerosi di collaboratori, ma guidati da Maria Gemma Grillotti. Ecco, questi Atlanti, adesso vi farò vedere alcune figure per far capire anche un po' come vogliamo lavorare. Ecco, i geografi umani utilizzano in questi Atlanti un sistema, diciamo, testo-figure molto ben sviluppato. Quindi il modello di iscrittivo, come scrive Emanuela in questa bozza introduttiva, è basato sulla relazione additiva testo-carta, vedete? E direi non solo testo-carta, se posso dire, Emanuela, ma perché, vedete, non ci sono solo carte geografiche. È chiaro che le carte geografiche sono prevalenti, ma ci sono anche altre rappresentazioni grafiche, come ovviamente i diagrammi che vedete qui, le fotografie geografiche, perché molto spesso questi Atlanti rappresentano pure dei paesaggi geografici. E poi, come vedete, adesso sono passato all'Atlante Tematico delle Acque d'Italia, il sistema testo-figure è particolarmente sviluppato. E quindi il lavoro che andremo a fare non sarà semplicemente una raccolta di carte, ma un ragionamento. Ecco, io ho partecipato a tutti questi ultimi Atlanti. Per esempio, ho partecipato a questo qui, Italia-Atlante dei tipi geografici. Questo invece è del 2004 ed è stato realizzato dall'Istituto Geografico Militare. Anche qui partecipò lo Stato Generale della geografia italiana. Se voi andate a rivedere l'elenco dei collaboratori di quell'Atlante, praticamente ci sono tutti i poli geografici più avanzati e molto ben distribuiti su tutto il territorio nazionale. Questa tavola, per esempio, che ho scelto è stata curata da Carlo Brussa e ancora una volta era sulle conurbazioni. era un Atlante che utilizzava come corredo illustrativo prevalentemente le carte topografiche perché era una riedizione sostanzialmente del Marinelli, dell'Atlante dei tipi geografici di Olinto Marinelli del 26. Tipi geografici, lo dico soltanto per i colleghi più giovani, si riferiva a dei tipi geografici di paesaggio e quindi l'uso della carta topografica era fondamentale per l'analisi del territorio a questa scala di riferimento geografica. Qui mi piace anche citare, per farvi vedere un po' i principali Atlanti che io ho utilizzato in questi anni a partire dagli anni Ottanta in poi perché non se ne sono fatti più tante di queste opere collettive e questo secondo me è un po' un problema degli ultimi lustri della geografia. Ecco, mi piace anche citare l'Atlante delle spiagge italiane. Voi sapete quanto io tenga al rapporto anche con i geografi fisici, sto operando in questa direzione e loro fecero nel 1984 un bellissimo Atlante pubblicato dal CNR, l'Atlante delle spiagge italiane, in cui analizzavano i problemi dell'avanzamento e dell'arretramento della linea di costa alla luce dei cambiamenti dell'uso del suolo che stava avvenendo in modo massiccio in Italia vicino appunto al mare e quindi tutta l'urbanizzazione del territorio, la cementificazione delle aree turistiche. Vedete, loro utilizzano molto bene il sistema testo-figure, sono prevalentemente carte, la parte testuale c'è un pochino all'inizio, ma questi sono i geografi fisici. I geografi umani lavorano sempre più o meno in questo modo. Questo non è un Atlante italiano, è l'Atlante mondiale delle lingue del 2010, l'edizione italiana perché è l'opera originale del 2003, di Roland Breton, quindi il massimo esperto della geografia delle lingue, e vedete ancora una volta il sistema testo-figure molto articolato e poi l'utilizzazione di diverse forme appunto geografiche. Qui è la famosa proiezione triangolare di Breton tangente al polo nord e qui vediamo una rappresentazione anamorfica e da quest'altro lato notiamo appunto le rappresentazioni grafiche dei diagrammi a torta. Ecco, quindi il primo obiettivo è anche questo, l'utilizzazione di questo strumento per un approfondimento di uno dei tratti identitari della geografia su cui Ragei sta molto lavorando in questa fase. Noi stiamo lavorando molto sull'identità del geografo, il ruolo del geografo nella globalizzazione. Ecco, un altro aspetto su cui noi puntiamo molto e però io devo veramente ringraziare tutti i laboratori della rete LabGionet perché appunto non solo sono qui presenti 26 laboratori ma è anche aumentato il numero delle strutture che si sono inserite nella rete dei laboratori geografici universitari che adesso sono diventati 35. Erano 29 fino a poche settimane fa. Quindi evidentemente, vedete, questo progetto piace molto un po' a tutti ed è un segnale importante perché io sono, vi prego veramente di vedere questo Atlante non solo perché realizzeremo un ottimo lavoro come prodotto di ricerca ma anche come un obiettivo strategico perché se io credo che ogni polo universitario io sogno che ogni polo universitario possa avere una struttura laboratoriale e cioè che metta a disposizione della ricerca pura, della ricerca applicata e della didattica, della geografia tutti gli strumenti del geografo, i GIS, le geotecnologie che rappresentano oggi una strumentazione indispensabile per il lavoro del geografo. Io per esempio credo che se noi faremo crescere questa rete e questo progetto può essere un momento importante perché finora c'era la rete ma ogni laboratorio lavorava un po' per conto suono nel proprio spazio regionale succederà anche che nel giro di poco tempo ogni studente che fa un esame di geografia e voglia o non voglia diventare geografo passerà delle ore di esercitazione nei laboratori della rete Labionet a conoscere e a utilizzare gli strumenti della geografia dando un contributo a tutto quel ragionamento che sta facendo la GEI per una didattica non più basata soltanto sull'erogazione di conoscenze ma anche sul raggiungimento di competenze. Un altro obiettivo che io ritengo importante è il geografia e interdisciplinarità cioè nel ventunesimo secolo e nel processo di mondializzazione non ha più senso lavorare come nel ventesimo secolo per compartimenti stagni nel mondo della ricerca noi dobbiamo lavorare in progetti interdisciplinari portando però le nostre competenze disciplinari quindi questo è molto fondamentale e da questo punto di vista un aspetto importante che noi ribadiremo con il lavoro di questo Atlante è che nei GIS e nelle geotecnologie deve ritornare la centralità dei modelli geografici delle metodologie geografiche e delle conoscenze che scaturiscono dalle ricerche geografiche attuate con la ricerca sul terreno negli ultimi tempi la geomatica e tutti i sistemi informativi geografici sono stati dominati dai settori scientifico disciplinari dell'informatica e non ho nulla in contrario su questo che siano dominati no ma che gli informatici diano il loro contributo sono perfettamente d'accordo però che i GIS che i sistemi informativi geografici le geotecnologie le app per esempio geografiche debbano essere soltanto progettati dagli informatici non ha veramente molto senso perché il problema è che questi sistemi informativi siano influenzati anche dalle competenze della conoscenza dei geografi e così voglio arrivare alla chiusura del mio intervento mettendo in evidenza un altro aspetto su cui noi stiamo lavorando in AGEI e cioè la public geography da questo punto di vista io penso ecco questa è la mappa che ho preso dal sito della rete LabGionet che dimostra la distribuzione geografica dei 35 laboratori non è aggiornata alle ultime iscrizioni ma insomma più o meno vi fa vedere che stanno un po' dappertutto ci sono dei buchi in Italia che adesso ritroveremo anche che dovremo risolvere anche per la stesura dell'Atlante ecco ma sul ruolo pubblico della geografia voi sapete quanto ci stiamo lavorando abbiamo iniziato le giornali della geografia di Pato poi ci abbiamo ragionato ancora le giornali della geografia di Bergamo e nel frattempo abbiamo fatto diversi documenti ecco io soltanto così per mettere un altro tassello a ragionamento sul ruolo pubblico per esempio la geografia della salute è un'altra branca della geografia in cui si riscontra molto bene le potenzialità del ruolo della geografia la geografia della salute cioè quella branca insomma della geografia sociale che applica l'analisi spaziale al rapporto salute territorio un po' quello che faremo anche noi qui al rapporto uomo ambiente salute vedrete che ritorneranno tutti questi ragionamenti in che modo lavora lavorando lavora su questi temi utilizzando i metodi della geografia i sistemi informativi geografici le geotecnologie per studiare la distribuzione della salute delle malattie e delle strutture sanitarie ecco io mi fermo qui penso di aver messo in evidenza perché la GEI tiene molto a tutto questo progetto e io spero di trasmettervi questo entusiasmo che già avete mostrato chiedendovi di continuare a partecipare a questo progetto perché dietro a questo progetto io vedo molte prospettive che travalicano travalicano l'obiettivo di un della pubblicazione dell'Atlante ma vanno a investire tante altre cose grazie grazie dell'attenzione allora beh mi sentite siete sì Andrea procedi se vuoi chiudi la condivisione se vuoi dello schermo chiudo la sì hai ragione interrompi presentazione ecco qua dovrebbe essere dovrebbe uscire adesso il mio schermo e allora a questo punto il programma prevede che io passi la parola a Emanuela Casti a te Emanuela a te la parola a te lo schermo grazie buonasera a tutti io naturalmente chiedo a Massimiliano di proiettare le slide e nel frattempo anticipo che la premessa di Andrea che ha ben delineato il significato per la J di questo Atlante in qualche modo come dire l'obiettivo non è quello da cui io sono partita naturalmente ed è su questo punto che io vorrei fare una ulteriore riflessione oltre a quello che ha detto Andrea cioè io questa prima slide parto con per me l'Atlante è una proposta quindi se noi riusciamo a darne in qualche modo un significato nuovo visto che la situazione che stiamo vivendo è assolutamente inedita possiamo tentare di ragionare nei termini anche di una innovazione della geografia e soprattutto di come la geografia viene assunta ed accolta al di fuori del mondo dei geografi l'obiettivo che mi sembra che questo contagio in qualche modo propone geografi è quello di mostrare la strategicità della disciplina e quindi usando gli strumenti propri della disciplina poter contribuire alla comprensione di quello che sta capitando quindi gli obiettivi che io vedrei come cruciali da un punto di vista contenutistico è quello di richiamare l'attenzione svolta dal territorio sul contagio quindi le specificità dei territori e quello di quello che oggi è diventata la cartografia che non può essere più il GIS gestito dagli informatici ma dobbiamo recuperare il senso e le potenzialità delle carte grazie Massimiliano sono partita in maniera provocatoria chiedendomi se non ora quando la geografia può costituire una disciplina non insieme alle altre in un ambito interdisciplinare ma come la disciplina cardine in un ambito disciplinare che in questo caso specifico non lo potrà essere perché il covid dimostra che questo contagio ha una valenza totalmente biomedica ma anche una valenza totalmente sociale certo è che se noi assumiamo la pandemia come un evento sociale allora dobbiamo fare i conti che abbiamo due dimensioni che noi dobbiamo tener conto quello della spazialità e quello della temporalità la velocità del contagio ci porta a ragionare in termini di velocità in questa fase specifica la geografia come scienza dunque che si serve delle carte per geolocalizzare i fenomeni ma mostra tutta la territorialità insita nella spazializzazione che i geografi conoscono il terzo punto geografia medica anche ma non solo quello che io penso noi dovremmo tener conto è proprio di una geografia strategica per risolvere i problemi a cui andiamo incontro in questo caso la pandemia quindi l'Atlante è un primo prodotto di un probabile possibile osservatorio della pandemia perché ribadisco questo perché questo non è un progetto di ricerca non può contenere tutto ciò che nelle bozze di riflessione che vi abbiamo inviato comporta da un punto di vista geografico il fenomeno che stiamo vivendo adesso l'Atlante vorrebbe in questa prima fase mettere insieme i dati territoriali che i nostri laboratori conoscono che noi geografi abbiamo con i dati che il ministero della sanità o le regioni mettono a disposizione sul contagio quindi se non ora quando nel senso di dire è il nostro momento se noi abbiamo questa caparbietà di usare tempi e modi in grado di essere ascoltati e visti è il momento in cui la geografia davvero può fare un salto di prospettiva nel webinar io vi avevo messo già una diapositiva che questo conoscete quindi la georeferenza propria dei GIS e la territorialità proprio di una nuova cartografia che vuole recuperare la doppia dimensione spazio-temporale quindi l'Atlante visto nella modalità antica del testo carta che si parlano io ribadirei comunque con il primato del testo perché nel periodo neopositivista alla fine si costruivano le carte con l'idea che le carte tanto dicono in maniera chiara tutto quindi tutti sono capaci di leggerlo non è così la cartografia è uno strumento complesso che ha bisogno di essere costruita in un determinato modo per veicolare aspetti sociali aspetti connotativi del territorio quindi l'unico vincolo che noi chiediamo a coloro che vogliano partecipare a quest'Atlante è di mettersi in gioco per usare un'analisi e mostrarla attraverso una carta quindi testo e carte in questa prospettiva quali sono i dati massimiliano che noi abbiamo siamo partiti abbiamo detto teniamo conto che ci ha portato a considerare un aspetto di referenza di geolocalizzazione il contagio vale a dire l'insorgenza dei focolai che significato hanno i focolai da un punto di vista geografico voglio dire da un punto di vista medico un focolaio non è il primo caso di contagio ma è il momento in cui uno o più casi di contagio diventano una minaccia per una comunità seppure piccola dunque il focolaio ha una connotazione geografica spaziale diffusione intensità perché abbiamo detto dobbiamo vederne l'evoluzione gli esiti e dunque quali sono gli aspetti che a me sembra emergano delle riflessioni che abbiamo fatto e che vi abbiamo dato da un lato che tutto ciò che noi fino adesso abbiamo come dire snobbato perché geografia classica gli aspetti morfologici sociali climatici vanno recuperati perché fanno l'olisticità dei territori e mostrano perché il contagio da alcune parti ha una prorompente gravità in altri viceversa no altra cosa sono le ripercussioni che questo evento ha sulla scuola sul lavoro sulla mobilità ma dunque non è tutto ciò che noi metteremo dentro nell'Atlante ma sarà la prima fase quali dati io vi proponevo vi ho proposto i focolai con una analisi degli eventi quali eventi per esempio vi mostrerò noi abbiamo tentato di vedere la reticolarità tra i focolai della della Lombardia tra Codogno e Alzano Lombardo Nembro e abbiamo analizzato gli eventi sportivi che si sono stati fatti 15 giorni prima dell'inizio del contagio e fra le due realtà Codogno e Alzano Nembro ci sono stati la bellezza di otto eventi sportivi due partite di calcio una di bocce due di pallavolo uno di atleti che hanno messo insieme queste comunità mostrandoci che l'ipotesi che possa esistere una reticolarità oltre che la prossimità della diffusione è percorribile bisognerebbe che anche vedere cosa succede anche nelle altre regioni a tutto questo sulla diffusione l'intensità l'abbiamo detto nel primo rapporto non mi soffermo cosa c'è di nuovo qui il fatto che abbiamo introdotto la gravità perché nel nostro gruppo di lavoro bergamasco si sono aggiunti medici e virologi e ci hanno fatto capire che hanno bisogno di dati che riguardano i dati gli indici sulla mortalità per arrivare a una letalità oppure quelli quei dati che mettono in rapporto la composizione della popolazione oltre che la densità di questa popolazione continuo a pensare che questo è un quadro naturalmente questo voi lo potete accettare non accettare rinnovare migliorare noi siamo partiti da qui perché questo riuscivamo a fare quando siamo partiti vai quali sono le potenzialità dei laboratori degli atelier di ricerca a me piace chiamarli perché il laboratorio ha più una connotazione tecnica qui noi i nostri laboratori sono analisi e costruzione di cartografia intanto hanno una potenzialità sono tenuti dai geografi e i geografi conoscono il territorio a cui appartengono dove hanno già svolto presumibilmente delle analisi i dati del contagio ci danno a distanza di due mesi una grande differenza tra regioni per il periodo di diffusione per l'intensità per la gravità quindi se la nostra suddivisione sarà di tipo regionale non potremo certo fare dappertutto la stessa ricerca bisognerà che ogni regione trovi il suo rapporto con che tipologia di contagio la tecnica del mapping ecco secondo me è arrivato il momento in cui noi dobbiamo imparare a condividere capacità dati esperienze e perché una reticolarità reale dei laboratori avviene su questo sul fatto che tutti i nostri dati possono essere messi a disposizione e per primo Bergamo mette a disposizione tutti i suoi dati il contagio potrebbe essere visto in tre momenti la prima fase quella di cui stiamo parlando adesso cercando la specificità dei territori una seconda fase vedendone le ripercussioni sulla scuola lavoro quello che dicevamo prima e la terza fase quando bisognerà per ripensarli questi territori che hanno bisogno di altri spazi hanno bisogno di altre distanze e questo sarà la terza fase di progettazione se noi guardiamo la prima fase e andiamo a vedere come si presentava l'Italia il 23 marzo e il 14 aprile in tre settimane questa è una mappa che deforma le aree in base al numero dei contagi in tre settimane nulla è cambiato ma ciò che sono cambiati sono i colori l'intensità la gravità del contagio che cosa vediamo? vediamo in realtà tre itaglie non è io ho evocato le tre itaglie di Bagnasco e quelli che hanno la mia età sanno di che cosa parlo ma qui siamo davvero in presenza di una Lombardia che è la prima Italia perché non ha paragoni neanche nel nord regioni che sono di contorno della pianura padana che hanno dei contagi medi medi alti o controllati e poi a parte le aree metropolitane che però il contagio è davvero contenuto di Roma e Napoli il 14 aprile vediamo un'Italia meridionale che è un'altra cosa ha contagi certo che ha dei contagi ma è un'altra cosa quindi partiamo dall'idea delle tre itaglie con tre modelli di di analisi che avranno poi naturalmente anche una cartografia diversificata grazie Massimiliano se mi mostri la prossima carta i tamponi effettuati sulla popolazione per regione questa è la diversità questa è la differenza che noi vediamo in una media nazionale abbiamo grande quantità di tamponi fatti in Trentino in Veneto soprattutto ma anche in Friuli Venezia Giulia in Emilia Romagna ma abbiamo una grande diversità diversità che nella prossima carta che noi vediamo è aumentata ulteriormente Massimiliano in quanto se noi guardiamo l'incidenza del contagio per età avendo diviso l'età la piramide di età in giovani fino ai 29 anni adulti fino ai 59 e anziani oltre i 60 vediamo che le regioni da questo punto di vista hanno una diversità non solo nella quantità delle persone anziane ma noi vediamo che in alcune regioni i giovani hanno una percentuale di contagio superiore per esempio all'Italia settentrionale oltre al fatto che in due mesi dal 5% la popolazione giovane è passata quasi al 7% quindi c'è un abbassamento del contagio andiamo avanti incidenza della mortalità guardate la valle d'Aosta di cui nessuno mai parla perché perché ha un numero limitato il numero assoluto ma quando noi facciamo un'incidenza e quindi facciamo un calcolo in modo tale che siano paragonabili questi dati vediamo che dopo la Lombardia è proprio la valle d'Aosta che ha la maggiore incidenza la mortalità ha la maggiore incidenza Piemonte Emilia Romagna quello che vedete ma vedete anche tutta quella terza Italia che vedevamo nella nella mappa che qui in effetti ha una incidenza molto bassa passiamo alla Lombardia quindi a livello regionale cosa vediamo l'evoluzione degli esiti dei tamponi positivi e negativi anche qui un sacco di interrogativi da fare che non sapremo rispondere ma che forse è una comparazione tra regioni qualcosa di più riusciremo a dire vale a dire aumentano il numero dei tamponi che si fa aumentano il numero dei negativi al tampone ma rimane costante un dato positivo al tampone oltre al lockdown oltre a tutta la chiusura possibile immaginabile quindi dei dati a cui noi non sappiamo dare delle risposte ma che ci fanno pensare molto sulla diversità dei territori e su come questa diversità si giochi in scusate se ripeto ma per me è importantissimo in una dimensione spaziale temporale dobbiamo ragionare in termini di spazio tempo poi ancora sulla Lombardia è questa la realtà ve l'ho già mostrata nel webinar in topografica e in anamorfica che mette rilievo il rapporto tra popolazione residente e diffusione del contagio e se noi guardiamo la carta successiva e vediamo il Lazio voi capite bene che qui siamo di fronte a quelle tre taglie di cui parliamo prima Massimiliano nella prossima diapositiva ho fatto il collage tra queste due carte e guardate la realtà che noi abbiamo di fronte avendo mantenuto naturalmente sempre la percentuale di contagio e i colori riferiti alla percentuale del contagio quindi voglio dire il fatto che in Italia meridionale il fenomeno non sia stata della gravità della Lombardia è un fattore positivo per capirne un po' di più perché noi stiamo monitorando la situazione raccogliendo i dati giornalieri facendo ogni settimana una cartografia e siamo così impegnati a seguire questo come dire l'assembramento di questi dati sempre più invasivi che non abbiamo il tempo di vederne poi alcuni aspetti che forse in realtà come quella laziale possono emergere con più forza grazie vediamo pure la prossima sto arrivando alla fine l'inquinamento abbiamo preso in considerazione i dati dell'ARPA sulla media annua del biossido di azoto del 2019 voi vedete con il rosso la grande linea della A4 quindi dell'autostrada che collega Torino e che raggiunge il Veneto dove noi abbiamo appunto Milano Monza Bergamo Brescia le zone più colpite oltre ad altre che non stiamo qui analizzando quando abbiamo preso in considerazione nella prossima diapositiva le polveri sottili abbiamo visto che i giorni di bollino rosso e quindi quando si è superato il limite stabilito dall'Unione Europea come aria irrespirabile in realtà questa grande nella carta topografica a sinistra voi vedete che questa fascia riguarda Milano Lodi Crema ma non riguarda per esempio Bergamo e su questo naturalmente ci stiamo lavorando stiamo tentando di capire vi mostrerò in un attimo dopo come mentre se mettiamo questo dato lo mettiamo in confronto con la quantità di popolazione dei distribuzioni della popolazione allora vediamo la quantità di persone che sono fragilizzate dall'avvelenamento vorrei dire dall'inquinamento di queste regioni sono dati che sono parlanti di per sé no sono delle prime immagini che ci devono far naturalmente riflettere ma lo faremo più avanti quando poi Bergamo l'abbiamo seguita e abbiamo la situazione drammatica che voi conoscete nelle quattro date che ha oltre alla città preso i comuni limitrofi oltre che la Valseviana ci siamo quindi concentrati sulla Valseviana l'avevamo già fatto anche all'inizio la prossima diapositiva lo mostra e qui abbiamo visto che i fattori che non possono giustificare il contagio ma che sembrano tutti con cause disgraziatamente troppo elevate tutte concentrate in questa regione da un punto di vista morfologico da un punto di vista come dire anche climatico che incide naturalmente sull'inquinamento della bassa Valle Seriana vediamo la prossima diapositiva e qui abbiamo mappato la popolazione dove la popolazione è sempre questa piramide anomala con la base ristretta perché abbiamo una natalità bassa la fascia dei quarantenni sessantenni più elevata è la popolazione attiva anche per l'apporto degli immigrati in queste regioni e poi una consistente quantità di popolazione anziana se andiamo a vedere grazie nella prossima il numero di RSA che si trovano solo in questa parte della valle sono la bellezza di nove RSA raggruppate in questi paesi Alzano Nembro e altri che ci dicono anche la come dire senza entrare nel merito delle indagini in corso delle denunce e delle polemiche ma qui si sono create delle condizioni davvero eccezionali come sono eccezionali quelli quei dati che io vi avevo già mostrato sul pendolarismo grazie sia ecco è dopo invece questa è la reticolarità no no mostrami pure questa scusami un attimo la reticolarità di cui vi parlavo tra Codogno e Valseriana e bassa Valseriana su quegli eventi sportivi di febbraio che non creano una connessione causa-effetto ma che ci spiegano come la mobilità quella quella ambito iniziale teorico che noi abbiamo assunto per parlare di un contagio reticolare qui cominciamo ad avere dei dati che ce lo dimostrano chiudiamo ecco dunque sono arrivata alla fine diversità regionali da un punto di vista del dimensionamento del fenomeno e della temporalità i focolai che si mostrano con tipologie diverse voi Uganeo non ha nulla a che fare con la reticolarità della lombarda ma perché ma perché ha una struttura e una quantità di popolazione completamente differente non vi sto a tediare saranno i nostri amici padovani che ce lo diranno ma anche l'olisticità dei territori e quindi pensare a tutti questi dati popolazione movimento e quant'altro come possibilità per spiegare perché il contagio ha avuto degli esiti così devastanti in certe regioni e così lievi in altre parti se possiamo parlare di lievità in un contagio dunque abbiamo mappato i laboratori che hanno aderito e quindi la presenza del laboratorio intende i laboratori in cui voi avete aderito e potenzialmente almeno una disponibilità iniziale per ascoltarci i bollini rossi sono quelle regioni che non ci risulta abbiano o abbiano aderito come laboratorio e dunque bisognerà pensarla a una suddivisione regionale in cui regioni con grande quantità di laboratori penso al Lazio che possa prendere in considerazione anche delle regioni limitrofe o quant'altro o lavorare con dei ricercatori in modo congiunto per avere una mappa completa così naturalmente la Val d'Aosta io penso agli amici torinesi che lo potrebbero fare dunque l'ultima diapositiva la tempistica e la modalità operativa abbiamo detto più fasi noi adesso stiamo parlando di una geografia strategica che vorrebbe entrare nel dibattito pubblico del ruolo che i territori hanno avuto e credetemi non è un'impresa possibile Fulvia Dobati che coordina con me la ricerca sulla Lombardia ha potuto vedere che abbiamo lanciato con l'Atene un comunicato stampa a giornali e televisioni la settimana scorsa sugli esiti di questo secondo rapporto che abbiamo redatto e che a giorni sarà pubblicato sul sito della G.E.I. e abbiamo avuto pagine importanti su una decina di quotidiani siamo stati la prima notizia sui telegiornali locali bergamaschi e della pianura padana della valle seriana il telegiornale della 7 mi ha chiesto un appuntamento per fare un'intervista sul nostro lavoro quindi voglio dire c'è una richiesta reale da parte della società per capire cosa è successo ed è per questo quindi che io propongo la geografia strategica che entra nella direzione di dire in tempi reali cosa sta capitando e dico tutto questo anche per scusarmi della scadenza che propongo che è il 15 settembre però o lo facciamo per allora o va bene lo stesso ma avrà un altro significato la fase 2 che sarà più sulle ripercussioni del contagio quindi una geografia analitica la fase 3 una progettazione sui nuovi modi di abitare la terra quindi una geografia progettuale modalità operativa ho già detto dati e tecnologie open source la GEI mette a disposizione il suo sito una piattaforma ognuno di noi potrà caricare i propri materiali ci sarà la possibilità di fare dei blog delle discussioni tra di noi in modo digitale e quindi capire anche quando saremo pronti per fare degli webinar e quindi incontrarci a metà tempo e per vedere le difficoltà che ognuno di noi avrà sicuramente ma forse tutti insieme riusciamo a superarli meglio pensiamo alla pubblicazione naturalmente ma prima di una pubblicazione del 15 settembre anche a una comunicazione pubblica dei risultati prima dell'estate nel 30 giugno e prima che voi mi diciate che sono pazza io vi ringrazio e vi saluto ma rimango qua benissimo grazie grazie tantissimo Emanuela per il ragionamento che hai fatto per la discussione che hai avviato sugli aspetti metodologici sugli aspetti del crono programma io mentre così vi aggiorno ci sono 63 persone collegate in questo momento mentre vi aggiorno sugli iscritti già a intervenire il primo iscritto è Angelo Besana del laboratorio LARTU cioè del Policletico di Torino poi ci sarà Marina Marengo del Tetus Lab quindi Genova poi Mauro Spotorno sempre dell'Università di Genova e Fausto Marincioni che invece lavora nelle Marche ad Ancona volevo soltanto dire che più o meno confermo quella mappa che tu hai dei laboratori che tu hai costruito aggiungo soltanto perché il gruppo sta crescendo ora per ora giorno per giorno quindi che diciamo resta da vedere se l'Umbria forse c'è il laboratorio geocartografico però va confermato che credo io non posso vedere adesso posso vedere solo il numero assoluto delle persone ma insomma dall'Umbria avevamo avuto la richiesta di partecipazione di due geografi almeno e cioè Fabio Gianni De Santis e Fabio Fatichenti e quindi non so se loro appunto ci possono portare anche il contributo del laboratorio geocartografico di Perugia ma questo lo potremo confermare con il form che attiveremo da domani e oppure se sono presenti potranno dopo dirci qualcosa in più diciamo dalla Sicilia anche che abbiamo Carmelo Porto ed Enrico Nicosia che sono presenti tra l'altro e che ho salutato prima nelle prove tecniche e che quindi possono collaborare e lavorare sulla regione Sicilia dobbiamo individuare altri colleghi invece della Puglia e della Emilia Romagna detto questo passo la parola per il primo giro di interventi ricordo che avete 5 minuti di tempo per dire che cosa state facendo per commentare quello che abbiamo detto per proporre cose quindi la parola ad Angelo Besana Laboratorio L'Artu del Politecnico di Torino grazie ci sono mi sentite perfettamente grazie innanzitutto a Emanuela Casti a te Andrea e alla Jay per questa proposta che è chiaramente fondamentale direi per la geografia in questo momento il mio intervento in realtà consiste in una serie di domande a parte il fatto di precisare che il mio laboratorio è Politecnico e Università di Torino perché siamo un dipartimento interateneo e quindi ricordo solo questa cosa ma giusto perché appunto io sono dell'Università non sono del Politecnico dico sui due che mi spaventano un po' i tempi ma questo è normale quando si parte con un progetto e su questa cosa vediamo anche cosa cosa dicono gli altri quello che che volevo chiedere è rispetto ai punti che dovrebbero costituire la parte di analisi regionale se possiamo quanto prima avere diciamo un indice un po' più dettagliato magari delle tavole del di quelli che possono essere i paragrafi di questo Atlante per poter meglio organizzare il lavoro dal punto di vista operativo se rispetto alle diversità regionali a cui si accennava c'è anche spazio per degli approfondimenti tematici ad esempio noi a Torino abbiamo l'Atlante del Cibo di Torino che è coordinato da Egidio Dancero e quindi pensavamo comunque diciamo per quello che è l'attività del nostro gruppo di lavoro di fare degli approfondimenti su quelli che sono gli impatti dell'emergenza rispetto alle reti e alle filiere del cibo così come per quanto riguarda la progettualità su come riorganizzare la progettualità di determinati spazi rispetto alle esigenze appunto del contenere il contagio se queste cose questi eventuali progetti possono stare qui o dove possono andare se possono stare in questo Atlante e poi non ho capito bene se l'Atlante sarà pubblicato in forma online o in forma cartacea e io proponderei per una forma online perché visto anche il fatto che stiamo considerando un fenomeno che avrà dei tempi non ben precisati ma comunque non brevi varrebbe la pena avere un prodotto aperto che possa evolvere nel tempo non ho altre considerazioni e domande anche allora prima di passare la parola a Emanuela se vuole subito rispondere qualcosa su alcune sollecitazioni di Angelo volevo dire intanto rispondo come casa editrice a Jay senz'altro noi pensiamo di fare un Atlante digitale lo consideriamo un un mezzo uno strumento utile da un po' da tutti i punti di vista sia per l'implementazione ma sia per la fruizione l'open source eccetera quindi un tanto ti rispondo su questo per quanto un'altra precisazione che vorrei fare è che con Massimiliano Tabusi e con Emanuela Casti ieri riflettevamo sul fatto che sul sito della Jay attiveremo delle pagine come quella che c'è già disponibile per il laboratorio di Atesis quello di Bergamo delle pagine per ognuno dei laboratori che parteciperanno al progetto queste pagine saranno gestite da loro direttamente e i laboratori su queste pagine potranno caricare il lavoro che stanno facendo materiali insomma fonti di documentazione e quindi potranno dare appunto pubblicità e far conoscere appunto il lavoro che stanno facendo nel ragionamento nostro c'è il fatto che essendo un Atlante devono esserci delle tavole comuni a tutte le regioni ma essendo stata la fase 1 una fase che ha differenziato molto le conseguenze dell'epidemia a seconda delle aree geografiche come ha messo molto bene in evidenza Emanuela noi pensiamo che ogni spazio regionale oltre alle tavole comuni deve inserire delle tavole che sceglie il laboratorio che siano in grado di rappresentare meglio quello che è successo nella fase 1 detto questo do la parola a Emanuela poi si prepara a parlare scusatemi Marina Marina Marengo ecco io non so se convenga raccogliere prima tutte le domande e poi rispondere io me le sto annotando comunque dico subito rispetto a questo intervento di Besana del collega che in realtà non vorremmo fare come dire blindare una possibilità di analisi che deve essere basato sulle corde della sede cioè voi avete questi studi che state facendo sul cibo voglio dire avete l'Atlante sul cibo chiedervi di fare qualcosa di diverso in qualche modo lo dobbiamo fare ma nello stesso tempo senza obbligarvi a fare uno studio che sia lontano da tutto questo l'unico vincolo che noi mettiamo è che ci sia testo e carta da un punto di vista formale che questa carta non sia la carta banale come la vediamo ma deve essere una carta fatta con dei criteri anche possibilmente di coreografia ma voglio dire inutile non vi insegno niente da questo punto di vista e per quanto riguarda poi l'organizzazione interna del capitolo perché la suddivisione regionale non è il massimo perché noi vediamo che i fenomeni per esempio quello dei focolai è reticolare va oltre ai confini regionali quindi alcuni aspetti verranno toccati anche da più gruppi ma benvenga ma la suddivisione regionale dipende dal fatto che i dati noi ce li abbiamo suddivisi per regione per provincia e per comune quindi inevitabilmente il limite amministrativo quindi io non sarei del parere di fornire un indice dettagliato lo faremo quando avremo ricevuto le proposte dei laboratori che ci stanno ascoltando però sempre con quella flessibilità che vi porta a fare delle cose che voi sapete fare e che vi piace fare perché poi voglio dire la compilazione non diverte nessuno Bene nel frattempo sulla chat ho visto che Fatichenti Fabio dell'Università di Perugia ha confermato la presenza appunto dei colleghi appunto dell'Umbria del laboratorio geocartografico di Perugia quindi questo è già un punto interrogativo che posso togliere ecco e adesso do la parola a Marina Marina Marengo Buonasera a tutti Spero tutti in buona salute grazie per l'occasione allora io rappresento appunto il laboratorio Tetus Lab noi abbiamo cominciato a raccogliere tutti i dati a livello nazionale della protezione civile dell'Istat e della regione Liguria anche i dati che riguardano appunto che ci provengono dal sistema sanitario regionale quindi abbiamo abbiamo raccolto questi dati continuiamo a raccoglierli abbiamo cominciato a fare un po' di analisi e poi abbiamo cercato di capire come analizzare come riflettere anche come trattare questi dati e l'idea era appunto di provare ad analizzare la pandemia sia per contagio sia per gerarchia quindi riprendendo se volete dei vecchi modelli che però permettono forse di tirar fuori qualcosa di di diverso di spremere i dati che abbiamo a disposizione in maniera diciamo un po' un po' diversa scusami scusami Marina cosa intendi per gerarchia partendo dal concetto di modelli di comportamento sociale quindi se vogliamo ripartiamo da Agget dalle vecchie tra virgolette appunto per chi lavora in geografia da un po' di tempo però partire da questi modelli partire da queste riflessioni tra l'altro la collega Varani ha già pubblicato qualcosa ha già inviato qualcosa recentemente sempre sulla pandemia covid a riguardo dell'Africa provando a utilizzare questo questo diciamo questo questo modo di analizzare i dati l'altra cosa che stiamo facendo è raccogliere delle interviste con una griglia di intervista inviata ovviamente per email raccogliere delle informazioni qualitative questa volta da parte della maggior parte degli stakeholder dei più importanti stakeholder della regione Liguria e in questo modo vorremmo appunto fare un tipo di analisi che non sia meramente quantitativa ma anche qualitativa penso che vediamo insomma soprattutto visto che sono interviste scritte magari si può procedere anche con un'analisi un'analisi dei contenuti vediamo quando avremo raccolto tutti i materiali come potremo effettivamente utilizzarli questo ci sembrava importante perché i punti di vista le posizioni politiche ma anche personali di molti stakeholders sono state molto diverse contraddittorie tra di loro quindi diventa importante capire anche come è stata quale tipo di risposta c'è stata in funzione di come veniva concepita da parte degli stessi stakeholders ecco noi siamo a questo punto per il momento benissimo grazie Marina allora se Manuela non vuole aggiungere altro passerei la parola a Mauro Mauro Spotorno del laboratorio DAFIST sempre dell'Università di Genova e a te Mauro la parola buongiorno a tutti anzi buonasera oramai ciao Andrea grazie Emanuela è stato un piacere trovarvi ritrovarvi ascoltarvi insomma molto bello dunque sì devo farti un piccolo appunto non è soltanto laboratorio DAFIST ma sono due dipartimenti che collaborano il DAFIST e il DISPO in effetti è ben vero tu hai il tuo appunto scusa ce l'avevo anche nel mio appunto però sì sì ma sai c'è una vecchia storia quello che poi è diventato il DAFIST una volta c'era un laboratorio che c'è tuttora e adesso ci siamo messi insieme e stiamo lavorando due gruppi di geografi genovesi due dipartimenti diversi allora io avrei avuto tantissime cose da chiedere ma il tempo stringe per cui vado di andare sul pratico quindi primo cosa stiamo facendo allora noi all'interno delle due ma dei due gruppi diciamo così che adesso si stanno avvicinando stanno collaborando e cioè il DAFIST e il DISPO abbiamo condotto una indagine un questionario un questionario a livello nazionale che riguardava sostanzialmente la percezione dello spazio reale e virtuale e le differenze del comportamento nel momento del lockdown questo questionario è già stato somministrato abbiamo a questo punto più di 3000 risposte è stato somministrato via Whatsapp classico Google e quindi abbiamo a questo punto già il materiale che stiamo elaborando abbiamo alle spalle una banca dati che credo sicuramente potrà essere utile per sviluppare la nostra analisi questo è quello che stiamo facendo mi ha fatto molto piacere l'ultima osservazione di Emanuela perché mi ha tolto un problema e cioè noi partiamo da siamo partiti e io lì cominciavo a tremare il discorso di compartimentazione direi quasi regionale quando in realtà noi sappiamo che c'è il problema dei focolai che si muovono su un problema che si può affrontare su una base di tipo reticolare che scavalca abbondantemente abbondantemente quelli che sono le partizioni regionali le ultime cose che Emanuela ha detto mi ha molto confortato in questo senso confutami eventualmente ma mi sembra di capire che è ben vero che c'è questa necessità di una scala regionale ma poi cammin facendo si potranno vedere quali che sono le strutture reticolari che entrano in gioco nelle relazioni tra regione e regione e all'interno della regione tra comune e comune eventualmente perché secondo me qua Emanuela forse vuol dire qualcosa ok anche perché qui secondo me il discorso dell'interscalarità è fondamentale non si può ragionare soltanto sulla scala micro si deve ragionare anche sulla scala macro e i focolari ne sono la cosa più evidente io poi avrei alcune questioni di carattere proprio tecnico fondamentalmente e cioè uno il dato il livello l'unità minima di analisi che vogliamo prendere in considerazione mi sembra di aver capito che Emanuela il suo gruppo ha lavorato su dati a scala comunale probabilmente esatto quindi anche lì secondo me dovremmo avere una unità di analisi minima comune quindi io penso che il dato comunale sia la cosa migliore vedo che Emanuela assenta quindi va bene altra cosa tecnica noi avevamo un po' di competenze ovviamente in campo GIS le possiamo mettere in campo e condividerle chiedo quale piattaforma si pensa di utilizzare io ne cito soltanto due ma eventualmente se ne potrebbero pensare anche altre ArcGIS o QGIS è una domanda che lascio aperta altra cosa abbiamo a disposizione nelle nostre banche dati dei dati relativi ai flussi cioè agli spostamenti per capire quali sono gli assi eventuali lungo i quali ci si muove in questa struttura reticolare quindi anche la dinamica della struttura e il funzionamento del sistema quindi a questo punto ecco queste sono un pochino le tre domande poi ne avrei una di fondo che a questo punto Andrea conosce perché nella mia prima risposta l'ho citata e cioè va bene la rappresentazione va bene l'analisi che stiamo facendo ma qual è il modello a cui vogliamo fare riferimento è stato citato Agget potremmo citare Aggerstrand insomma possiamo sbizzarrirci quanto vogliamo ma poi nel momento della interpretazione della rappresentazione abbiamo un quadro epistemologico a cui fare riferimento oppure lo dobbiamo costruire basta io ho finito credo di essere stato velocissimo la parola a Emanuela do un aggiornamento Besana ha scritto sulla chat che il che il Politecnico può occuparsi anche della Valle d'Aosta e questo l'avevamo già ipotizzato tra noi ma questa conferma ci fa ovviamente molto piacere a te Emanuela grazie Mauro sta avvenendo una rivoluzione in ambito scientifico non lo dico io se ne stanno accorgendo i molti noi abbiamo questa piattaforma medium queste informazioni sono tutte presente nel nel sito AGEI dentro i rapporti che noi posizioniamo regolarmente in cui in realtà si sta capendo che la ricerca non può essere più basata su un riferimento di tipo bibliografico ma i dati a cui noi dobbiamo fare riferimento devono essere commisti a quella che è la velocità prima dicevo dimensione spazio temporale all'interno di medium c'è Cambridge c'è Paris d'Ouse c'è Sciences Po ci siamo noi ma noi siamo piccoli in cui in realtà istituzioni ricercatori indipendenti giornalisti e qualunque tipo di tecnico mette a disposizione il proprio materiale e ragiona su ciò che viene prodotto voglio dire aver bisogno di epistemologia di modelli a parte che voglio dire in Italia sulla cartografia forse siamo coloro che all'estero veniamo citati regolarmente ma anche sull'analisi di tipo territoriale abbiamo delle formalizzazioni dove noi non abbiamo bisogno di fare gli esterofiti a tutti i costi quindi ognuno di noi sceglie quello che ha imparato a fare in cui crede che il fenomeno sia più padroneggiabile e quindi io ho dato delle indicazioni ma naturalmente questi sono i miei ancoraggi teorici sia per la cartografia che per l'analisi territoriale va bene tutto Mauro cioè nel senso che l'indagine la come dire il questionario anche se in modo molto timido vi dico che ormai di fronte ai big data non c'è questionario che tenga ma tuttavia capisco anche che possa costituire una fonte informativa informativa in un ambito in cui i dati che stiamo utilizzando non sono né sicuri né completi né paragonabili rendiamoci conto che tutto ciò che si dice sulla sottostima delle morti da contagio oppure dei contagiati in rapporto al numero dei tamponi ogni regione ha fatto quello che ha voluto e quindi ci troviamo in una prospettiva in cui noi non possiamo fare una geografia quantitativa credo che nessuno di noi la voglia dobbiamo porci nella prospettiva di accogliere la tendenza e la gravità perché le morti per quanto possono essere ricavati in via statistica sono un dato certo di quello che sta succedendo per quanto riguarda i dati geografici flussi popolazione ci sono le banche statistiche che noi prendiamo in considerazione normalmente c'è l'ISTAT abbiamo il censimento che è aggiornato al 2019 abbiamo i flussi e quindi il pendolarismo per scuola per lavoro da poter mettere in rapporto con l'età scolare o lavorativa sono i dati ufficiali ISTAT anche perché alla fin fine io Mauro quello che tu fai mi va perfetto però io vorrei che tu rispondessi a questa domanda costitutiva che rapporto c'è tra il tipo di contagio l'esicoto del contagio in Liguria rispetto alla popolazione la composizione della popolazione perché la Liguria ha una situazione così diversa dalla pianura padana è solo una questione climatica di inquinamento io sono sicura che questa è una parte della risposta però voglio dire l'indirizzo di ogni regione sarà quello che vi è più consono però un dato di fondo su una situazione dati geografici e contagio per fare il collante quindi un discorso un'analisi di tipo comparativa credo che tutti noi siamo tutti voi siete in grado di farlo e quindi non farei uno shifting rispetto a degli argomenti magari ancora più interessanti di quelli banali che vi chiedo io che però in questo momento sono fondamentali per capire grazie Emanuele se dunque se Mauro deve aggiungere qualcosa oppure una cosa velocissima proprio nel senso che perfetto ho capito perfettamente quello che ha detto Emanuela e il concordo insomma niente da dire direi soltanto una cosa l'ultimissima battuta Emanuela ha detto come mai la Liguria differisce così dalle regioni della penura padana io aggiungerei come mai in Liguria ci sono aree che sono molto simili a quelle della regione delle aree padane e altre che sono molto simili a quelle della meridione è caspiterina quindi lì è veramente da entrare a livello micro territoriale nel senso di piccole aree che hanno delle specificità totalmente assolutamente rilevanti mi viene in mente certe aree del nostro introterra che anche morfologicamente e funzionalmente assomigliano a certe zone della Bergamasca nei quali l'incidenza è stata maggiore anche lì ad esempio partì da Focolai all'interno di residenze protette che sono a volte delle similitudini che vanno al di là dei confini dei confini regionali questo mi costringe scusami Andrea rapidissimamente a fare un'altra distinzione attenzione perché in questi due mesi di contagio noi abbiamo la prima fase in cui sicuramente i dati territoriali entrano in modo preponderante sul perché il contagio si diffonde in un certo modo o nell'altro dopodiché noi dobbiamo mettere in conto che nella seconda fase l'assistenza sanitaria e gli errori fatti dalle varie regioni e del sistema sanitario ha fatto la differenza però voglio dire noi non ci siamo ancora arrivati anche perché è un argomento tabù in questo momento per la Lombardia sono tutte le questure che ci stanno facendo le indagini è perfettamente ragione bene allora mentre si prepara Fausto o Marincioni del Disaster Lab volevo ricordare a tutti coloro che sono intervenuti nei laboratori e coloro che interverranno da qui in poi che da domani appunto è disponibile questo form questo modulo all'interno del quale voi vi prego di di computare appunto le cose che avete detto anche qui perché ci sono appunto delle domande predisposte nel questionario nel nel modulo che si che chiedono appunto il lavoro che state facendo il ragionamento che portate avanti i dati che possedete detto questo Fausto a te Fausto Disaster Lab Università Politecnica delle Marche di Ancona grazie buon pomeriggio allora ovviamente ringrazio la professoressa Casti e il professor Diggio per aver spinto questo progetto perché è importante è assolutamente importante e necessario noi ci occupiamo di disastri come laboratorio il nome stesso dice questo però vuoi non vuoi a causa di dove sono i fondi fino adesso ci siamo occupati di tematiche di disastri più tradizionali tipo terremoti cambiamenti climatici ed altri questo è un tipo di disastro un'emergenza che ovviamente rientra nei nostri interessi e quindi sono veramente contento di questo ora sono spaventato anch'io come diceva il professor pesana dei tempi perché sebbene noi lavoriamo sui disastri nei fatti su questo particolare emergenza non abbiamo lavorato granché quindi non abbiamo dati già raccotti o organizzati però diciamo che la cosa non ci spaventa speriamo di riuscire a stare nei tempi noi siamo abituati a lavorare su tematiche di percezione del rischio quindi vedere molto la dimensione se vogliamo etica culturale della gestione dell'emergenza in questo caso ovviamente si apre un universo se vogliamo ragionare su quelle che sono state le condizioni di vulnerabilità iniziali più o meno considerate o sottovalutate che hanno portato a questo e quindi diciamo ci sono tanti temi che ci interessano e che vorremmo diciamo proporre nei tempi nei modi insomma che il network riterrà utile vorrei anche sentire gli altri colleghi marchisani per esempio non vedo qui Carlo Pongetti Simone o i rappresentanti del vino forse sono interessati farò diciamo parlerò con loro per vedere se vogliamo fare un lavoro insieme a livello di regione marche la regione come se le marche come si è visto dalle presentazioni sono state sono una regione di frontiera perché siamo proprio a quel a quel bordo della zona incolpita in modo importante e il resto diciamo della penisola che in qualche modo ha subito un impatto minore e qui noi abbiamo già lavorato in termini di possibili ipotesi sul perché la regione pesa rubino così collegata con Rimini una zona quasi specialmente per il turismo estivo una zona economica esclusiva che al di là dei confini amministrativi nei fatti è molto unita un'unione che per esempio è più forte fra Pesaro e Rimini rispetto a Pesaro e Ancona capoluogo di regione e questi sono tutti i ragionamenti interessanti che vorremmo sviluppare insomma però ci siamo vogliamo aiutare e quindi questo è quanto volevo dire al momento insomma abbiamo tantissime domande che è inutile nemmeno iniziare ad elencarle qualcune qualcuno sono già state affrontate tipo piattaforme e altre cose e per il resto vedremo strada facendo insomma siamo disponibili ecco questo questo è quello che grazie mille perfetto allora a questo punto io ho in prenotazione Cristiano Cristiano Pesaresi del Laboratorio Geocortografico della Sapienza di Roma gli cedo volentieri la parola e lo saluto affettuosamente ciao Cristiano ciao a tutti grazie per questo stimolante confronto innanzitutto per quanto riguarda quello che stiamo facendo diciamo essendo un laboratorio geocortografico strettamente legato al corso di laurea della sapienza in scienze geografiche per l'ambiente e la salute stiamo lavorando a stretto contatto col dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive col quale abbiamo praticamente contatti quotidiani ormai da due mesi e in particolare stiamo lavorando sull'elaborazione di alcuni modelli di diffusione spaziale e temporale per il caso specifico del Lazio partecipando a una serie di iniziative che sono state le iniziative interministeriali varie e alle call dell'agenzia spaziale europea che ha cercato di mettere in evidenza il possibile utilizzo di tele rilevamento e applicazioni GIS proprio per far fronte alla pandemia ci siamo trovati in realtà di fronte a una serie di problemi legati alla disponibilità dei dati sensibili che ci sono stati messi molto poco a disposizione e a una serie di problemi di privacy quando si scende ovviamente in dettagli specifici e quindi questi erano i dati che a noi servivano come dati ad hoc proprio per fare degli screening territoriali a livello di specifici indirizzi quindi per avviare operazioni di geocoding geolocalizzazione e via di seguito pertanto abbiamo elaborato per lo più dei modelli basati su dei dati simulati quindi abbiamo cercato di mettere in evidenza mediante applicazioni specifiche cosa si potrebbe fare qualora questi problemi di disponibilità di dati specifici e di privacy venissero superati quindi cercare di mettere in evidenza con dei dati simulati cosa si potrebbe fare nel momento in cui si avessero a disposizione i dati che noi andiamo a richiedere quindi all'interno di questa progettazione di Atlante così strutturata così sfaccettata anche io penserei eventualmente a un contributo più di tipo di approfondimento per quello che abbiamo fatto fino ad ora qualora ce ne fosse ovviamente spazio su problemi da risolvere per cercare di muoversi nella direzione di future emergenze e per il monitoraggio di questa ma anche di potenziali altre pandemie perché ovviamente questi sono dei modelli che potrebbero essere replicati nel momento in cui si venisse ad avere a disposizione questo tipo di dati quindi volevo chiedere se contributi di questo tipo quindi più di tipo metodologico su base applicativa quindi però su delle applicazioni su dati specifici che in questo caso sono stati simulati perché non li abbiamo avuti a disposizione può essere di interesse oppure diciamo se qui ci si basa per lo più sui dati che sono effettivamente a disposizione con gli enti ufficiali purtroppo non li abbiamo avuti perché non so di che grado di dettaglio ad esempio della provincia di Bergamo se è diversa se è stato possibile avere a disposizione dati ad esempio sui singoli indirizzi per quanto riguarda i positivi o per quanto riguarda la mortalità eh mi conferma la professoressa che ok quindi ecco questo era quello che volevo dire all'interno di questo ragionamento appunto ringrazio ancora e mi sembra di grandissimo interesse benissimo anche questo ti prego di scriverlo nel form cristiano non so se Emanuela vuole aggiungere qualcosa o bastato sì vai rapidissimamente benissimo modelli benissime le simulazioni tuttavia ribadisco creiamo questa base comune di mettere a confronto i dati territoriali popolazione movimento o quant'altro con i dati del contagio anche perché l'istituto superiore della sanità rispetto a Lazio così come per la Lombardia e per la Toscana da questi dati comunali quindi non c'è neanche bisogno di passare attraverso la regione quindi voglio dire avere una situazione un po' più completa rispetto a quelle mappe che vi ho mostrato io sarebbe interessante sapere sapere il perché non a Roma ma nei piccoli paesi ecco insomma quindi io continuo a forzare un po' la mano mi dovete scusare però mi piacerebbe molto che ci fosse una coerenza dentro l'Atlantico sì a questo riguardo anch'io volevo chiedere a Cristiano una cosa e cioè allora questa tua sollecitazione riguarda più che altro la fase 2 o la fase 3 ma nel caso se nel Lazio ovviamente siamo tanti laboratori però nel caso ci fosse la necessità di collaborare anche alla fase 1 ci potresti dare una mano specialmente appunto per esempio per diciamo tematismi relativi a spazi non troppo coperti ecco questo guarda dovrei parlare anche con gli altri che fanno cavo al laboratorio perché io personalmente in questo momento non riesco veramente a fare più di quanto detto perché la collaborazione essendo proprio di supporto alla task force diciamo è quotidiana e non ha praticamente molti orari anzi non li ha proprio e quindi diventa difficile riuscire a pensare a qualcos'altro perché diciamo quello che è stato fatto è cercare di dar luogo a una serie di ragionamenti appunto di modelli e di applicazioni che servissero proprio nelle varie fasi perché noi abbiamo cominciato proprio dall'inizio e quindi per cercare di comprendere come potersi muovere a seconda dei diversi momenti della fase d'emergenza quindi è un lavoro in progress e molto molto corposo eh certo certo posso un secondo solo per capire un po' di più ma scusami voi siete all'interno di questo gruppo che immagino interdisciplinare mi ascolti? sì ok quindi voi lavorate all'interno del gruppo disciplinare come spendete il vostro essere geografi? fammi un esempio che così capisco meglio cosa fate allora noi il primo esempio era quello del modello di diffusione su dati relativi all'indirizzo cioè noi avevamo provato a chiedere ci eravamo cercati di rimuovere sugli enti ufficiali vari per avere i dati garantendo ovviamente tutti i livelli di privacy per avere i dati dei singoli contagi in maniera tale da poter individuare nelle varie zone di Roma perché poi ovviamente il territorio è ampissimo per cercare di comprendere quali erano proprio specificamente le aree maggiormente colpite dove intensificare certi tipi di controllo eventualmente tamponi eventualmente altri tipi interventi ad hoc in base non solo ovviamente ai singoli indirizzi ma dei raggruppamenti che potessero essere poi ad esempio le sezioni di censimento o qualt'altro per mantenere da un punto di vista della restituzione cartografica il dato nel anonimo oppure quello di dar luogo a dei questionari geolocalizzati con dei software ad hoc tipo quelli messi a disposizione dalla piattaforma di Esri per avviare delle inchieste epidemiologiche e quindi poter poi contattare le persone che avevano un determinato numero di sintomi e quindi potenzialmente positive per poter avviare un'inchiesta epidemiologica sulla singola persona e su eventuali contatti quindi una serie di ecco scusami ma io mi chiedo se la collaborazione voi la fate con l'Istituto Superiore della Sanità con il Ministero della Sanità è obbligo che ogni medico che fa la diagnosi debba inoltrare il dato così come fanno tutti gli ospedali e poi questi dati che non sono così sensibili da aver bisogno di individuare le persone ma sono dei dati che l'Istituto della Sanità possiede e voi non li avete a disposizione voi non potete guardare quelli? Noi la collaborazione l'abbiamo col Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive che è del Policlinico e che quindi è praticamente sono i colleghi che lavorano nel nostro corso di laurea e quindi noi abbiamo lavorato in stretto contatto con loro e tramite loro abbiamo cercato di andare a certi tipi di dati purtroppo né noi con richiesta ad hoc né loro siamo riusciti ad avere questo tipo di informazione potremmo provare a continuare anche a valutare questo progetto magari sei formalizzato su qualcosa di specifico però da quanto visto è veramente difficile perché poi effettivamente nelle ultime settimane sono nate una serie di iniziative poi fermate proprio per problemi di privacy come quella del data tracking e delle varie altre e quindi effettivamente credo che ci sia stato anzi un irrigidimento in tal senso proprio nel mettere a disposizione questo tipo di dati grazie mille grazie a voi bene bene allora adesso la parola a Giuseppe Borruso del GEP Lab cioè dell'Università di Trieste il Friuli è molto ben rappresentato in questo progetto ci sono mi pare un paio di laboratori a Trieste e un altro a Udine e mi fa molto piacere anche salutare affettosamente Giuseppe che non vedo da un po' di tempo beh dalle giornate alla geografia di Bergamo via ciao ciao e buonasera a tutti grazie per la parola per l'invito fa molto un piacere se appunto se sarà possibile partecipare a questa questa iniziativa Andrea come dicevi giustamente ci coordineremo tra l'altro con gli altri colleghi triestini perché appunto abbiamo parecchi laboratori però cercheremo comunque di dare un contributo coordinato io qui posso solo brevemente anticiparvi un po' uno studio che abbiamo fatto che stiamo facendo un po' insieme nel laboratorio che in realtà è nato come spesso molte di queste iniziative per caso prese appunto da questa epidemia e in realtà io in particolare ho collaborato con degli urbanisti e dei medici dell'università di Basilicata Cagliari e Sassari in cui abbiamo cercato di mettere insieme un po' appunto di professionalità diverse e affrontare proprio un po' quei temi che sono venuti fuori il discorso legato alla componente dell'inquinamento quindi inquinamento dell'aria consumo di suolo e lo stress su una popolazione a rischio già esistente che è stato quello che ci è stato un po' anche suggerito in qualche modo confermato dagli epidemiologi con cui abbiamo lavorato e poi appunto abbiamo cercato di mettere insieme tutta una serie di indicatori a livello provinciale noi ci siamo un po' fermati a livello provinciale c'è un preprint che sta girando in questo periodo stiamo attendendo l'esito del primo giro di referaggio in cui abbiamo cercato appunto di vedere tutte quelle variabili di tipo geografico da quello fisico a quello umano a quello economico con i limiti appunto di una scala provinciale e di un dato ufficiale che abbiamo preso da fonti tipo Istat e Ispra e la grande difficoltà e qui mi unisco veramente a quello che ha appena detto Cristiano che approfitto di salutare appunto sulla difficoltà di reperire i dati noi abbiamo avuto una difficoltà estrema a reperire i decessi a livello provinciale per tutta Italia con cui appunto con i medici abbiamo cercato di calcolare un tasso di mortalità standardizzato che è stato un po' quello che abbiamo elaborato e naturalmente ecco questo è stato un primo tipo di lavoro che abbiamo svolto in cui naturalmente tutte quelle variabili di carattere ambientale socio-economico che abbiamo trovato sono ancora da elaborare in modo più raffinato diciamo anche qui abbiamo adottato un po' di metodi di analisi spaziale per cercare appunto delle prime ipotesi di relazioni tra le varie variabili appunto non mi spingo a dire che abbiamo trovato correlazioni perché sarei messi in croce probabilmente con un'affermazione di questo tipo per cui ecco diciamo che però siamo un po' in linea e naturalmente sì e mi unisco a Marina Marengo che saluto anche lei sul fatto che che i stimoli dati da modelli di Agret e di Agrest sono anche un po' quelli che ci hanno spinto soprattutto a cercare di comprendere certe modalità di diffusione diffusione spaziale appunto sul territorio per cui in questo momento noi ci siamo fermati qui e adesso appunto attendiamo un po' vedere come poter anche contribuire a questa iniziativa ringrazio grazie a te posso Andrea dire una cosa no no cioè nel senso che in questo momento stanno uscendo molti report da parte dell'Istat dell'ISPRA di Greenpeace dell'Istituto della Sanità senza contare quelli che interni delle regioni che noi stiamo raccogliendo molto interessanti anche per vedere come poter ottenere dei dati che io vi ho mostrato sugli indici di mortalità e quant'altro da un punto di vista statistico nel confronto anche con questi istituti tutti questi report li metteremo a disposizione di tutti naturalmente all'interno della piattaforma Jay benissimo grazie adesso prende la parola Simone Bozzato del laboratorio geocartografico di Tor Vergata quindi Roma Lazio ovviamente e a Simone mentre si prepara vorrei chiedere se visto che nel vostro gruppo anche nel Lazio è una regione molto coperta da tanti ciao Simone anche il Lazio è una regione molto coperta ma ci sarà ovviamente tanto da lavorare lo stesso sempre all'interno del Lazio ma mi chiedevo visto che non abbiamo una copertura dell'Abruzzo e visto quanto voi avete studiato l'Abruzzo da sempre e quanto insomma poi lo conoscete attraverso le vostre attività dirette sul terreno ecco se poi nel form mi indichi se per caso potreste occuparvi anche dell'Abruzzo ma ti cedo la parola ciao Simone sì ciao Andrea intanto un piacere vederti è un po' che non ci si vede per cui insomma anche se a distanza è un saluto a tutti quanti è un piacere particolare anche per Emanuela invece ultimamente paradossalmente anche con la distanza ci si è visti parecchio è un piacere doppio è un ringraziamento a Massimiliano per la regia e nel tenere un po' tutto insieme molto velocemente non entro nel dettaglio delle specificità tecniche è un po' perché non riesco a seguire il dettaglio proprio nel senso pratico perché Emanuela indubbiamente ti ringrazio perché stai facendo un lavoro che aiuta tutti noi rispetto al momento di difficoltà che viviamo e anche ci fa sentire protagonisti di poter dare un contributo reale per le nostre regioni per il nostro paese ma credo che rilancio un po' la palla ad Andrea per poi prendermi magari un impegno anche di tipo abruzzese visto quello che dicevi in premessa cioè della presenza di tanti laboratori visto anche l'intervento precedente di Cristiano allargato naturalmente non solo a Roma ma tutta la regione Lazio probabilmente un sotto incontro di tipo laziale mettiamolo così che possa garantire quei dati di base fondamentali per Emanuela e non solo possa garantire che non ci siano sovrapposizioni di lavoro visto che il tempo è stretto e le cose cambiano giorno per giorno e quindi bisogna essere pure molto attenti a quello che accade potrebbe essere un dato positivo quindi fare una mini piattaforma laziale ma insomma immagino che altri contesti possano fare cosa analoga per coordinata di supporto con la GEI e con Emanuela direttamente per capire se si va progressivamente in una direzione equilibrata o se invece vada ricalibrato rispetto alle attese possa essere un dato importante e in questo caso potrebbe essere funzionale stendere l'occhio anche all'Abruzzo anche perché le direttrici principali poi rappresentano anche questo passaggio naturale quindi in questa direzione stante anche le cose molto belle e molto interessanti che ho letto di quello che in questi giorni Emanuela ha più riprese tra report anticipi di articoli e diversi incontri ha fatto e l'elemento delle diverse direttrici e altro possono rendere elemento ancora più rendere ancora più funzionale questa collaborazione in sostanza e dare un dato aggregato più funzionale alle attese in sostanza per quanto ci riguarda come laboratorio geocartografico o se vuoi come centro di ricerca Pater paesaggio e territorio siccome all'interno ci sono anche altre competenze soprattutto nel centro di ricerca che rappresentano della nostra università diversi settori anche quelle opportunamente messe in campo possiamo fare in modo che possano aiutarci e darci anche qualche sguardo che magari ci riempie al meglio e ci completa rispetto ad alcune ipotesi che possono nascere in ultimo come elemento di collaborazione che può essere funzionale ricorderete che poco tempo fa avevamo lanciato una call come documenti geografici ma proprio agli inizi della della pandemia e che quindi e che praticamente aveva come scadenza dei testi che in questi giorni stanno arrivando proprio ieri o oggi non ricordo precisamente quindi a breve avremo un quadro di quello che arriva forse è una buona base al di fuori del tema dell'Atlante o dentro e fuori il tema dell'Atlante per capire per avere delle informazioni sulla prima fase già un po' ponderate chiaramente sull'onda però delle 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 di un apparato di approfondimento che è fatto anche molto non solo sui sui canonici riferimenti bibliografici ma anche sulla cronaca e su tutto ciò che è accaduto in questi giorni su ciò che siamo riusciti a recuperare rispetto a settori tra loro differenti ma che poi danno degli sguardi utili quindi insomma la nostra collaborazione può essere così riferita su livelli differenti partendo possibilmente da una collaborazione interna a Roma che è Roma e Lazio che sarebbe a mio modo di vedere forse molto più efficace dell'intervento almeno nostro in questa direzione benissimo allora intanto grazie a Simone e ci avviamo verso la la parte conclusiva della riunione di oggi sono ancora collegate 55 colleghi quindi il il dato è rimasto praticamente costante per tutto il tempo ripeto ci sarà anche la possibilità di seguirlo indifferita ho guardato la chat poco fa correggetemi se sbaglio non vedo per ora altri colleghi che vogliono parlare e vedo invece Emanuela che forse vuole aggiungere qualcosa le do subito no? capito? no 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 direi che io ho parlato anche troppo e sono sicura che come dire aspettiamo che ci sia la possibilità di digerire un po' anche queste modalità e questa metodologia speriamo che naturalmente la cosa possa avere un seguito altrimenti sarà stata una bella proposta insomma allora a questo riguardo quindi io direi che intanto veramente grazie a tutti vorrei ringraziare Annalisa D'Ascenso che mi ha dato una mano in questi giorni per controllare tutti i dati relativi all'app Gionet Carla Masetti che voi sapete il CISG e la J sono i due i due sodalizi che hanno sostenuto la Gionet che hanno che stanno sostenendo la Gionet tutti i rappresentanti del del direttivo di la Gionet che che hanno collaborato alla realizzazione di questo passaparola e Massimiliano Tabusi che insomma vabbè oltretutto dice che parteciperà al progetto per cui sono doppiamente contento di questo adesso apriremo sul sito le pagine relative ai singoli laboratori quindi diciamo rimaniamo con questo duplice impegno da parte i singoli ricercatori e i laboratori devono compilare il form e noi dobbiamo dare un po' di risposte a delle sollecitazioni che sono emerse ma di questo con Emanuela poi ci vedremo ecco se mi posso permettere chiederei a Fulvio Adobati di intervenire se crede vista l'esperienza che stiamo facendo a Bergamo rispetto a questo e quindi se vuole dire qualcosa ai colleghi sì buongiorno a tutti sì quello che mi pare posso aggiungere rispetto a quanto già detto è il fatto che in effetti rispetto al contesto lombardo che è un contesto particolarmente interessato insieme alla particolarità dei diversi pocolai emerge anche un po' così l'interesse di ragionare a più scale rispetto ai livelli di prossimità peraltro un altro un altro fattore importante credo che che emergerà anche nelle prossime settimane il fatto che l'evoluzione del contagio ci ha portato anche a geografie un po' diverse quindi credo che insomma probabilmente avremo modo di stabilizzare un po' le nostre riflessioni nelle prossime settimane che riguarda il contesto lombardo i fattori che abbiamo preso in esame sono già stati esposti diciamo purtroppo l'articolazione molto vasta del contagio che è avvenuto ci ha portato a ragionare su una scala regionale su una scala di alcune aree metropolitane e poi l'affondo a livello provinciale e a livello di valle seriana e forse ecco uno spaccato interessante certo molto impegnativo può essere quello di qualche affondo che provi a leggere un po' la configurazione di alcuni asset insediativi locali anche nella prospettiva poi di ragionare su quella fase di progettazione del futuro che possa farci capire come quali indirizzi si possano prendere nel ragionare su un futuro scenario diciamo di organizzazione dell'urbano grazie grazie a te benissimo grazie ad ad adubati per questo ulteriore contributo a questo punto se non ci sono altri interventi controllo per l'ultima volta la chat io passo ai saluti finali ho sentito qualcuno? no è tutto tutto come prima benissimo allora niente abbiamo grandi prospettive abbiamo un gruppo veramente insomma molto vario ben distribuito sul territorio abbiamo qualche buco ancora ma lo sono sicuro che queste lacune le colmeremo adesso ragionate tutti quanti con calma su quello che abbiamo detto e poi fateci sapere attraverso il form cosa intendete fare intanto grazie a tutti grazie Emanuela vi abbraccio a tutti a presto e buone cose grazie a te Andrea grazie a tutti ciao